oh no sono diventato uno youtuber qualsiasi e non sto portando per niente un gioco mainstream e vabbè dai no non citerete allora noi ci chiamiamo sdrubal ecco qua se è solo una scritta giovine siamo giovini poi classe abbiamo quello che è sulla copertina prince of persia la lampadina quello con lo spiedino in mano assassin's creed prince of persia 2 questo è robin di fire emblem quello awakening quello bello poi c'è quello con la pelliccia è un pelle rossa poi c'è il prete e poi c'è questo che usiamo noi tu non si può creare uno a caso perché tanto è uguale poi chi ha voglia di stare qui a modificare giochiamo dai no che paura cimitero nessuno mi aveva parlato di un cimitero no mi stai dicendo che ho sbagliato non è questo happy whiz ah ok allora andiamo avanti allora come si gioca oh ma salve lei mi vorrà senz'altro bene mi dia un abbraccio un cosa sta cosa è successo ah ma quindi bisogna picchiarsi eh ma che gioco violento adesso lo dico alla mamma sì ma che tristezza con un colpo vanno vabbè vediamo un po' che cosa ci riserva la vita da queste parti dunque oh una luce anima di un cavoliere abbandonato no poverino allora allora vediamo un po' oh scusi scusi non volevo svegliarla ecco buonanotte dice uno che piange no poverino andiamo a consolarlo salve pronto? c'è nessuno tutto bene tutto a posto chiamo chiamo no buonanotte oh mi ha anche dato un regalino anima morenda grazie salve no guardi che Napoli è dall'altra parte dall'altra parte vabbè volevo indicargli la zappa vabbè ok però io adesso sto anche morendo perché nei giochi se la barra rossa che è quella della vita va a zero e quindi si toglie tutta si muore poi come potete vedere questo qui è un gioco molto come si dice istruttivo ecco o distruttivo scusate perché vi fa vedere la geografia e a scuola noi la stiamo facendo adesso e siamo arrivati al monte bianco che è alto tanti p mi raccomando era un'informazione che potrebbe essermi utile nella prossima verifica speriamo bene oggi sono altri amici che vogliono giocare ciao amico no forse questo non vuole giocare non voleva giocare come lì piange no andiamo a consolarlo no non voleva essere consolato e neanche lui dovresti consolare il tuo amico eh oh salve non l'avevo sentito arrivare oh lì c'è qualcuno ma non lo voglio andare Geronimo ah ah ci sei cascato ah un altro che ha sbagliato strada Napoli è dall'altra parte di qua si può cadere bisogna stare attenti perché la sicurezza è importante poi qua c'è una statua bella un po' inquietante però è bella sembra viva vero? ci regalano anche la spada nella roccia oh mio dio ah ma c'era la sorpresa aia no sono morto no e ora come faccio riproviamoci dai eh no ma devo ripartire da qua ma che schifo non si riparte dalla boss fight che schifo no ma questo gioco è brutto e ci sono di me voi nemici ma io li ho già sconfitti ma che gioco di merda oh però così mi sento a casa c'è da dire il boss è diventato tutto verde ciao come va male aia ma no ma così non vale è troppo forte oh mio dio i mostri no no ma questo non ero pronto mi uccide ora no è troppo forte eh questo gioco è troppo difficile no non mi fa malissimo no troppo difficile non voglio più giocare a questo gioco muori troppo velocemente no non è giusto no siamo pazzi dov'è minecraft no no non va bene ah però aspetta ho vinto quindi va bene no è bello questo gioco ha ha è bello ho vinto ah ha sono troppo forte yeeeh ho preso fuoco mi vanno a fuoco i vestiti non si fanno vedere queste cose i bambini però e quindi niente questo era anime oscure è un gioco di merda perché è troppo facile e poi ti insegna troppe cose io non volevo studiare io volevo uccidere i niggah e non ci sono neanche le pistole quindi fa schifo no no adesso torno a giocare a a a a un gioco dove si spara dove è infinita guerra allora